Lorenzo Giustiniani è stato il primo patriarca di Venezia dove nacque il primo luglio 1381 di famiglia nobilissima, mortogli il padre, fu educato dalla madre che era rimasta vedova pensate a solo 24 anni con 5 figli già, sui 19 anni con l'aiuto di uno zio materno lui entra fra i canonici secolari agostiniani di San Giorgio in Alga che erano guidati da Gabriele Condulmer futuro Papa Eugenio IV che però dopo due anni fu chiamato a Roma guidati anche da Lorenzo Barbo a sua volta dirottato dopo un biennio a Padova come abate di Santo Giustina dove avrebbe iniziato la riforma del monachesimo benedettino Lorenzo venne ordinato sacerdote probabilmente nel 1405 e poi eletto priore di varie comunità della congregazione guadagnandosi grandissima stima per la sua spiritualità, il suo spirito di sacrificio e per la sua umiltà e sui 38 anni comincia la sua opera di scrittore ecco lui la intende come riflesso e partecipazione della propria esperienza perché lui diceva questo parlare degli effetti della carità senza averla sperimentata è indice di temerarietà quindi lui scriveva solo di cose che aveva sperimentato in prima persona nel 1433 Papa Eugenio IV lo nominò vescovo di Castello ed egli pur avendo sempre fatto vita contemplativa si dimostrò un perfetto uomo di governo sensibile a tutti i bisogni del suo tempo aprì un seminario per chierici poveri un sinodo convocato da lui intervenne con norme e disposizioni per una più intensa vita liturgica in tutte le chiese e poi diede forma organica alle sue iniziative apostoliche fece rifiorire monasteri femminili che durante il suo episcopato da una ventina arrivarono a 35 e poi come tutti i grandi particolare attenzione per i poveri di ogni tipo ebbe anche speciali doni sopranaturali profezie discernimento di spirito miracoli guarigioni miracolose ottenute da lui e quando Niccolò V succeduto a Papa Eugenio IV soppresse la sede patriarcale di Grado e il titolo episcopale di Castello trasferendo la sede a Venezia Lorenzo fu nominato primo patriarca il santo morì la mattina dell'8 gennaio 1456 il suo corpo, pensate alla fama di santità rimase esposto alla venerazione dei fedeli per 67 giorni e venne canonizzato nel 1690 grazie 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 Ilario di Poitier nato nel 315 da una famiglia benestante si convertì al cristianesimo dopo aver letto le scritture di cui divenne poi un acuto interprete soprattutto nel commento ai salmi e al Vangelo di Matteo sposato e padre di una figlia ne curò talmente bene l'educazione cristiana che meritò ancora da laico di essere letto vescovo della sua città verso il 350 allora succedeva anche questo comunque in questo caso meritatissima la nomina partecipò con ardore alla lotta anti-Ariana e nel 356 fu esiliato dall'imperatore Costanzo in Frigia dove abbia modo di approfondire le dottrine trinitarie di cui si discuteva appunto nel mondo orientale rimandato tre anni dopo nella sua diocesi per combattere alle radici l'eresia ariana indisse sinodi provinciali e inviò lettere circolari a molti altri vescovi nel 361 il concilio di Parigi confermando la fede nicena il simbolo niceno costantinopolitano condannò i capi del movimento ariano in particolare il vescovo Ausenzio e chiamò Ilario il liberatore della Gallia contro Ausenzio egli scrisse anche un libro in cui l'eretico ha chiamato angelo di Satana rinnegatore della fede confessata con la menzogna e oltraggiata con la bestemmia quindi parole forti fu eminente teologo storiografo ed esegeta biblico ecco in particolare sono da segnalare tra le sue opere il De Trinitate scritto appunto durante gli anni dell'esilio che rappresenta la difesa da lui compiuta primo fra i latini della fede anti-ariana poi i commenti che abbiamo citato al Vangelo di Matteo e ai Salmi il Tractatus Mysteriorum trattato dai misteri e poi un libello molto coraggioso Contra Constantium in cui deplora fortemente gli interventi in debiti dell'imperatore in materia religiosa poi ci sono altre opere storiche relativa ai vari momenti sempre dalla polemica anti-ariana che a quei tempi era vivacissima lui è considerato il creatore del linguaggio teologico dell'Occidente però è anche un autentico santo che nell'intimità di vita con Cristo apre il cuore apre le labbra alla preghiera continua quindi una grande vita interiore e tra le sue lettere c'è una rivolta alla figlia Afra per persuaderla a persistere nella verginità Ilario muore sul finire del 367 ecco definito l'Atanasio dell'Occidente fu proclamato dottore della Chiesa però molto tardi da Pio IX nel 1851 1851 1954 dottore dottore Grazie a tutti